Salve a tutti, sono Brian Farey ed eccoci in questo nuovo bitrate. Allo State of Play di oggi è stato ufficializzato il trailer già traperato di Kingdom Hearts 3 Remind. Ci sono state anche altre cose in questo State of Play che magari verranno discusse in separata sede, nel gruppo Telegram, il ritorno di Babylon's Fall, Resident Evil, bla bla bla, tante cose. Ma qui parliamo di Kingdom Hearts 3 Remind, perché abbiamo avuto l'ufficializzazione, abbiamo avuto altre informazioni e possiamo anche tirare una somma di quello che è stato l'ultimo trailer, almeno a detta di Nomura, nell'ultima intervista di Famitsu e delle informazioni per l'appunto che abbiamo ricavato. Non solo quelle dal trailer, anche perché ho fatto già un bitrate apposito, ma proprio in generale. Cosa abbiamo scoperto oggi? Innanzitutto, per l'appunto, Kingdom Hearts 3 Remind, ufficializzato, uscirà il 23 gennaio su PlayStation 4, il 25 febbraio su Xbox One. E questa cosa mi dà da pensare, l'ho già detto nello scorso video, perché questa differenza temporale, oltre ad un ovvio l'autocompenso di Sony? E questo mi viene da pensare che probabilmente Sony ha spinto per una release anticipata per via del remake. Per Xbox One non uscirà il remake, almeno fino al 3 marzo 2021, poi vedremo cosa succede dopo che scade l'esclusività, e magari per non far cozzare le uscite su PlayStation 4, hanno preferito anticipare la release sulla console Sony. È una mia idea, una mia teoria, non so se è così. Tra l'altro ancora non si parla di versioni scatolate di Kingdom Hearts 3 Final Mix, per ora stiamo parlando del solo DLC. Ok, questa qui è per quanto riguarda il rilascio. Poi abbiamo due versioni, Remind, Remind più concerto. Remind costerà 29,99, Remind più concerto, e il concerto sarà possibile comprarlo almeno negli store solo così, 39,99. Il concerto conterrà 19 videotracks del concerto fatto ad Osaka il 30 novembre, che tra l'altro è l'ultimo dove Nomura è salito a detto cose, Ah, bello, Kingdom Hearts ha questo, questo e questo, che adesso vediamo. Quindi, diciamo che è una sorta di Remind di quello che successe con Kingdom Hearts 2 Final Mix. Lì la cosa in più era il Ratchet of Memories. Qui la cosa in più è questo, diciamo, Blu-ray digitale, non si può definire anche così questo concerto in videotracks. Poi, ripeto, una versione futura fisica, chissà cosa ci metteranno dentro. Poi dividiamo le informazioni. Perché abbiamo per l'appunto il Free Update, che uscirà lo stesso giorno, e il Remind in sé. Il Free Update, o se è un aggiornamento gratuito, 1.07, che uscirà quel giorno, conterrà un aggiornamento di storia, anche se non è ben definito cosa conterrà. Perché per l'appunto è un aggiornamento di storia gratuito. Quindi è qualcosa che avranno tutti, a prescindere dal Remind. Quindi non penso che sia una cosa effettivamente importante come collegamento per il futuro. Magari una sorta di ampliamento per coronare definitivamente la chiusura dell'arco di Xehanort. Poi nuove abilità, per quanto ancora non si è visto. Ci sono viste alcune abilità, ma quelle penso che siano esclusive del Remind, come Reflega. È una modalità di condivisione delle foto migliorata. Qui onestamente non so. Oltre questo, porta fortuna e lontano ricordo. Così tanto desiderati dagli utenti, questi Keyblade, con le loro form changes, con le loro fusioni, e qui finalmente si otterranno. Come non ci è stato detto, ma probabilmente ci entreranno le prove che abbiamo ottenuto nell'update della critica. Ottenendo tutti gli emblemi, o finendo il gioco a critica, ottenevamo delle prove diverse. Uno era in giapponese l'equivalente del porta fortuna, l'altro del lontano ricordo. Probabilmente si otterranno così. Non ci è dato ancora saperlo. Infine abbiamo Remind. Cosa ha dentro Remind? Come ho detto nello scorso video, noi non possiamo ancora collocare temporalmente, perfettamente, tutto il contenuto di Remind. Noi abbiamo per l'appunto una nuova storia. Remind. E questa cosa penso che sia quella cosa più vaga. Remind cos'è? E Remind è tutto? Remind è solo invece un certo pezzo, un certo punto. L'ampliamento del... Ok. Poi abbiamo l'ampliamento per l'appunto del Graveyard Keyblade, del Graveyard Keyblade, di tutta la zona, di tutto l'arco finale, con i suoi 13 boss, che probabilmente saranno i data. O meglio, sì, i 13 boss sono i data, quello è ovvio, ma saranno i data dell'organizzazione, come Kingdom Hearts 2 Final Mix, che ha una zona dove è possibile riaffrontare i 13 a livello 99, probabilmente si sarà una cosa simile anche qui. Si sono viste già alcune battaglie e abbiamo visto che in quelle battaglie possiamo utilizzare anche personaggi diversi. Possiamo riutilizzare Riku, Shion, Kairi e così via. Quindi abbiamo per l'appunto questo sentore di ritorno di ciò che è stato già fatto vedere in Kingdom Hearts 2 Final Mix. Poi abbiamo il Limit Cut, l'equivalente, almeno a quanto si è capito, del Secret Episode del BirthBest Drip, sia una sorta di contenuto post-finale, probabilmente legato agli eventi del finale di Kingdom Hearts 3, con un nuovo boss segreto aggiuntivo, che è quello che abbiamo visto nel trailer. Sto cercando di fare meno spoiler possibili del gioco base, voglio che sia fruibile per tutti questo video. Quindi anche questo già sappiamo eventualmente cosa aspettarci. Poi le altre aggiunte includono una modalità per modificare totalmente la difficoltà, Fast Pass Black Code, dove noi possiamo per l'appunto aumentare ancora di più la difficoltà con una modalità One Hit Key o contro di noi, oppure togliendoci la possibilità di curarci o così via, oppure il contrario. Nomura ha detto che il suo Easy è diverso dagli Easy delle persone, e quindi ha voluto mettere una modalità che permetta a tutti di usufruire del titolo. Quindi mettendo per l'appunto la possibilità di uccidere i nemici con un colpo solo, di mettere le magie facilmente spammabili con triangolo e così via. Per l'appunto è una modalità, un nome particolare, però al suo interno ha il Fast Pass e il Black Code. Il primo modo è una cosa del genere. Nomura ha detto che sarà possibile accedervi in qualunque momento, si mette in pausa e si cambia, a prescindere dalla difficoltà, per quando ci saranno dei momenti nella quale non è possibile modificare queste cose. Penso dipenda sempre dagli eventi. Poi abbiamo il Data Greetings, le foto saluto, con la quale sarà possibile creare della sorta di diorami modificando personaggi, posti e luoghi. Come è stato mostrato al concerto, hanno fatto vedere la scena famosa del 358 tra Sion e Axel. Quindi sarà possibile creare delle vere e proprie scene fighe dalla quale potremo poi fare delle foto. Questa cosa mi ricorda molto il Feeder Mode di Metal Gear Solid 2, dove era possibile cambiare i personaggi a caso, mettere parrucche, potevamo mettere a posto del cattivo un buono e così via. Probabilmente una cosa del genere. In più lo slideshow. Lo slideshow che permette di unire delle diapositive, magari create in questo modo, per creare dei mini filmati. Probabilmente per portare al massimo questa cosa, anche per unire il gammifono. Comunque aggiunte, così che mi lascio nel tempo che trovano, però sono belle, sono aggiunte comunque significative. Più o meno è questo. Tutto quello che sarà aggiunto, stavo vedendo un attimo, però sì, presentazioni, è ok. Sì, più o meno è questo tutto quello che dovrebbe essere aggiunto nel Remind. E niente. Come detto, 23 gennaio per i possessori di PS4, 25 febbraio per i possessori di Xbox One. È già possibile, come ho detto, preordinarlo su ambo le piattaforme. E come detto, non sappiamo ancora quando e se, ma il se penso che sia scontato, ma non sappiamo quando, uscirà una versione Final Mix totale, da poter comprare, da poter avere insieme alle nostre versioni che non abbiamo di Final Mix nipponico. Va bene, con questo è tutto per quanto riguarda questo video. Come al solito, se vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione. Vi ricordo sempre il gruppo Telegram per discussioni estemporanei e cose così, informazioni per quello che può essere il tempo reale. Devo cambiare mano perché con quella non so questo. spread the knowledge che è sempre la cosa più importante e noi ci vediamo al prossimo video.